Tardo pomeriggio di sabato 24 luglio, siamo in Piazza Castello, appena finita la manifestazione a cui hanno aderito migliaia di partecipanti contro i vaccini, contro il Green Pass, contro tante cose. Insieme a Luca e a De Maria andiamo a vedere cosa è successo. Sono qui per manifestare contro questa nuova dittatura farmaceutica. Non è giusto discriminare i cittadini, come dice anche l'Unione Europea in documenti ufficiali, non è giusto discriminare i cittadini vaccinati da quelli non vaccinati. Sono un semplice cittadino contro questo Green Pass che vuole limitarci la vita quotidiana. Io ritengo che ognuno di noi deve essere libero di poter andare dove vuole e fare quello che vuole. Siamo qui per protestare contro queste cose che stanno succedendo, perché noi non siamo negazionisti, non neghiamo l'esistenza del virus, il virus c'è, ma secondo noi è tutta una manipolazione. Vogliono controllarci, secondo me. Ho visto molto spesso dei commenti anche di persone della politica che fanno proprio dei discorsi di una bassezza infinita, perché sembra che il problema dell'Italia, della sanità attuale, siano le persone che non vogliono vaccinarsi, se si può chiamare vaccino. Il problema non è solo un problema legato al vaccino, è un problema di libertà costituzionali, legato al fatto che lo Stato da un certo punto di vista dà la libertà di vaccinarsi, dall'altro invece bastona semplicemente chi ha dei dubbi. Sono con la mascherina non per non farmi vedere in faccia, ma per una protezione. Questo è una cosa che dobbiamo fare tutti, visto che siamo in tanti. Non sono contro il vaccino, perché mi farei il vaccino? Però sono contro il discorso che viene toccato alla Costituzione italiana. Non va bene. La mancanza di libertà, io sto facendo questa cosa per i miei figli. Non voglio che i miei figli vengano controllati se devono andare al bar, se devono andare al ristorante, perché noi siamo già controllati nella vita lavorativa. Una parte del popolo è scesa in piazza proprio per rivendicare i nostri diritti che sono scritti, marchiati nella Costituzione. Volevo dire questo al governo, a tutti coloro che stanno là dietro in poltrona e noi a scendere in piazza. Tutto questo. Siamo cittadini italiani e abbiamo già il Green Pass. Oggi siamo qui principalmente per un diritto di libertà, di scelta. Non siamo assolutamente no-vax, assolutamente, anche perché io ho un'età dove ho avuto dei vaccini. Il nostro è soltanto un democratico pensiero, quello di poter dire la nostra e di poter avere una possibilità di scegliere se fare o no una terapia sperimentale.